Sono da oggi in servizio nelle strade di Napoli i primi 10 di 56 nuovi autobus acquistati dall'amministrazione comunale grazie ai fondi PON Metro. Per il momento questi primi nuovi automezzi andranno a potenziare le tratte più frequentate come la linea R2, la linea 154, quelle pertinenti da Biabrin, Piazza Garibaldi, Corso Umberto, Piazza Municipio e 3S e Trento e San Giovanni, Volta, Marina e Piazza Municipio. Inoltre la linea che serve è l'aeroporto di Capodichino. Nelle prossime settimane, allentati in servizio degli altri autobus, si potenzieranno anche le altre corse, ha spiegato Nicola Pascale, presidente di ANM. In una fase di grande rilancio per l'azienda, i primi 10 sono già in circolazione da questa mattina, entro la fine settimana saranno 30 in circolazione, entro i prossimi 15 giorni li vedrete tutti e 56. Saranno distribuiti sia nella zona centrale che a servizio delle aree meno centrali della città. E' un modo per rilanciare il servizio e rilanciare l'azienda con grande determinazione. Buone notizie per gli utenti del trasporto pubblico, quindi settore che ha pagato le disastrate condizioni delle casse dell'azienda napoletana Mobilità, tema su cui è intervenuto il presidente di Napoli Holding, Amedeo Manzo. Un lavoro di team che consegna alla città un nuovo prodotto, una nuova speranza e naturalmente bisogna ottimizzare gli incassi e farli girare e soprattutto fare tantissimi biglietti per poterli pagare. Presto per dire che l'ANM è salva, è tutto a posto? E' ancora presto ma bisogna vincere innanzitutto negli spogliatoi, quindi prima con la mente, stiamo lavorando benissimo, realizzeremo un buon risultato.